È l'ennesima riprova che viviamo nel mondo alla rovescia, così non faccio pubblicità di un libro che come sapete ho particolarmente apprezzato. Io sono scandalizzato per il fatto che un solo parlamentare si sia indignato in maniera sacrosanta dopo aver sentito dire, proprio in occasione del 2 giugno, festa della nostra Repubblica, una Repubblica che si fonda sulla nostra Costituzione, dicevo dopo aver sentito dire in un discorso ufficiale che fra alcuni giorni consacreremo la sovranità dell'Unione Europea. Un messaggio, direi, contrario alla nostra Costituzione che all'articolo 1 recita l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi dire che fra alcuni giorni consacreremo la sovranità dell'Unione Europea significa ripudiare la nostra Costituzione. Quella frase quindi è di una gravità inaudita, giacché può essere ritenuta un oltraggio nei confronti della Costituzione. In un mondo normale tutti i parlamentari, ripeto tutti, nessuno escluso avrebbero dovuto respingere con sdegno una simile affermazione. Ma dato che siamo nel mondo alla rovescia, a respingere con sdegno un oltraggio alla Costituzione è stato un solo parlamentare al quale va tutta la mia stima e il mio apprezzamento. Sapete che spesso sono stato molto critico col senatore Borghi e assolutamente rivendico quello che ho detto nei suoi confronti, non cambio una virgola. Ma dato che io sono un uomo libero e quindi come rivendico il mio diritto alla critica nei confronti dei parlamentari quando lo ritengo doveroso, così sono sempre pronto a lodare gli stessi parlamentari quando invece agiscono in maniera corretta ed esemplare. Quindi grazie senatore Borghi. Devo anche sottolineare le indegne parole pronunciate da Tajani. Solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli attacchi subiti e poi aggiunge peggio ancora. Siamo italiani ed europei. Questa è la nostra identità. Questa è la nostra civiltà. Ogni scelta anti-europea è deleteria per l'Italia. Fa bene Mattarella a sottolineare la nostra prospettiva europea. Perché vedete che siano i rappresentanti dei partiti dell'opposizione ad avere reazioni indecorose alle, ripeto, sacrosante parole usate dal senatore Borghi nel suo tweet. Beh, è chiaro che sia l'opposizione ci sta. Chi è all'opposizione si scaglia sempre contro la maggioranza. Qualunque cosa facciano o dicano esponenti della maggioranza, anche se dovessero dire la più assoluta banalità, dall'opposizione arriverebbero solo critiche. E quindi non vi sto neppure a riferire le parole assolutamente indecorose usate da Giuseppe Conte e da Ethel Schlein. Le potete ben immaginare, insomma. Ma personalmente trovo che siano ancora più gravi quelle pronunciate da Tajani. Ecco però che arriviamo al fulcro della vicenda. Allora, mi rivolgo a voi e vi chiedo. Voi ritenete che il Capo dello Stato abbia detto quelle parole, abbia usato il termine sovranità riferendosi all'Unione Europea? Quando tutti gli italiani sanno, forse conoscono anche solo quello, comunque, quando tutti gli italiani sanno il primo articolo della Costituzione che, lo ripeto, dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ripeto, la sovranità appartiene al popolo, non all'Unione Europea. Ossia, voi pensate che al Capo dello Stato sia sfuggito quel sovranità riferendosi all'Unione Europea? Oltretutto in un discorso ufficiale. È come se ciò non bastasse addirittura nel discorso ufficiale della festa della Repubblica. Insomma, ditemi la vostra opinione, ma per me è assolutamente impossibile che quella parola, appunto sovranità, sia sfuggita al Capo dello Stato. Figuratevi quante volte vengono controllati, visti e rivisti tutti i termini usati, in particolare poi in un discorso ufficiale. Quindi quella parola è stata usata di proposito. La possiamo quindi definire una provocazione? Ma forse sotto questo punto di vista Borghi potrebbe essere caduto in una provocazione. Io non so naturalmente dare una risposta certa a questa domanda, ma posso dire con certezza che Borghi ha fatto bene a twittare con quelle parole e soprattutto ha fatto bene a non ritrattarle e a rivendicarle. Certo, se Borghi non avesse fatto quel tweet, quell'espressione pronunciata dal Capo dello Stato sarebbe, come suol dirsi, passata in cavalleria. Ma non si può lasciar passare messaggi così gravi e pericolosi. Ormai lo sappiamo che tutti i partiti che stanno all'opposizione e anche Forza Italia propendono per la fine dell'Italia e l'adesione del nostro Paese agli Stati Uniti d'Europa. Quindi agiscono come hanno sempre fatto. Gli italiani purtroppo sono anestetizzati da una delinquenziale disinformazione. Nonostante venga loro detto che da quando c'è l'euro si sono impoveriti, altro che lavorare un giorno di meno e guadagnare come se si fosse lavorato un giorno di più. È accaduto il contrario. Abbiamo lavorato un giorno in più e abbiamo guadagnato come se avessimo lavorato un giorno in meno. E fra un po', quando dovremo anche restituire i prestiti che ci hanno fatto, guadagneremo come se avessimo lavorato non un giorno in meno, ma due giorni in meno. Ebbene, cari ascoltatori, tanto per farvi capire lo stato catatonico nel quale ormai sono ridotti gli italiani. Ora, giornali e televisioni ce lo dicono pure in faccia. Ce lo dicono in faccia che in termini reali guadagniamo meno rispetto a 35 anni fa. Io penso che sia un record mondiale, che non ci sia un altro paese al mondo nel quale i cittadini in termini reali guadagnano meno di quanto guadagnavano 35 anni fa. Eppure sono certo che se facessimo un referendum per uscire dall'euro e dall'Unione Europea, gli italiani voterebbero no, voterebbero per rimanere all'interno dell'euro e dell'Unione Europea. Questi sono stati talmente rimbecilliti da questa martellante propaganda europeista da diventare addirittura autolesionisti. Tuttavia, se oggi, anziché fare un referendum per rimanere o meno all'interno dell'euro e dell'Unione Europea, facessimo un referendum chiedendo agli italiani se vogliono rimanere tali, ossia rimanere cittadini di uno stato sovrano chiamato Italia, oppure volessero entrare a far parte di un agglomerato di stati federali chiamati Stati Uniti d'Europa, ebbene, ecco, io penso che al momento, perlomeno al momento, il risultato di un simile referendum non sarebbe assolutamente scontato. Forse gli italiani posti davanti ad un simile quesito voterebbero per rimanere Italia, con la nostra lingua, con le nostre tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi tutti quei partiti e quelle elite che invece sono già oggi favorevoli agli Stati Uniti d'Europa hanno ancora bisogno di tempo, devono, come sempre hanno fatto, far passare sui media nazionali questo messaggio in continuazione, al fine appunto di renderlo abituale, ordinario. In altre parole, gli Stati Uniti d'Europa devono risultare la normalità, la logica e naturale conclusione di un processo di unificazione che ha solo aspetti positivi e nessuna controindicazione. se vogliamo, guardate, l'esempio più eclatante è che sulla scheda elettorale fra pochi giorni noi troveremo un simbolo con la scritta Stati Uniti d'Europa. Qualche anno fa una cosa simile non si sarebbe potuta ritenere possibile, sarebbe stata ritenuta un attentato alla Costituzione, un partito che ha come obiettivo il disfacimento dello Stato italiano. Ma è incredibile! Cosa avrebbero detto i nostri padri costituenti?